Il case bianco, la scheda video bianca Ciao, senti, c'è sta lei che se vuole fare un pc per lavoro Io voglio regalare per San Valentino, però io non ce capisco un cazzo Allora, parla direttamente Parlo con lei, va bene, piacere Piacere, Andromeda Sì, dimmi pure, io senti, ti seguo sui social Ho visto i tuoi video che parlano dei pc da studiare E a me servirebbe un pc per lavorare Vabbè, diciamo che per lavorare non è che serve proprio un pc potentissimo Quando abbiamo messo un i3, 8 giga di ram e una scheda video Però certo che se uno così lavora, ma poi lo licenziano perché lavora male Cioè se uno vuole lavorare bene, allora eccola lì che magari c'ha bisogno di un processore alto Che ne so, per dire un Ryzen 9 magari, no? Eh, perché il Ryzen 9 ti permette di lavorare molto bene, capisci? È fondamentale per lei avere un Ryzen 9 Che poi va coaudivato chiaramente da una scheda video buonina Che ne so, una 40-60 Che però la 40-60 che succede? Poi mentre lavori se surriscalda non riesci più a lavorare bene E il capo si incassa magari Allora forse è meglio andare su una tranquillissima 40-90 Magari raffreddata al liquido Perché il raffreddamento al liquido permette di lavorare per più ore senza scaldarsi, no? Giusto, no? Infatti, lo dice pure lei, è giusto Poi magari ci mettiamo un po' di ram Che ne so, 32 giga di ram Che però poi fanno sì che c'è il collo del bottiglia Quando magari sta a fare una videocall Invece se noi ci andiamo a mettere 64 giga di ram Con l'RGB che aumenta la prestazione, giusto, no? Magari rosa come i capelli tuoi, no? E allora capisci che Il lavoro diventa quasi un piacere E lei magari prende pure l'aumento, eh Poi si può fare tutto anche nero, triste Però certo, spendendo qualcosina in più Si può fare tutto bello bianco Il case bianco La scheda video bianca La scheda madre bianca La RAM RGB bianca E a quel punto lavorare è veramente un piacere Perché tutti i processi lavorativi vanno molto meglio Però chiaramente costa di più Ma non so se magari tu volevi risparmiare Non fa una cosa costosa per lei Ma infatti sì, ma che ti sembra una da risparmio, io? Eccola che con 6.000 euro più o meno tra capi Fai un figurone con lei Lei è contenta E voi passate un sereno San Valentino Ma se stiamo a capì?